Un duro tributo viene pagato dai vigili del fuoco durante il terremoto del 1968 in Belice nella Sicilia occidentale. La prima scossa si registra il 14 gennaio, ne seguiranno circa 150 fino a marzo, le vittime sono 249. Nei soccorsi si alternano sul posto 7000 vigili, durante le operazioni nuove scosse provocano tra le loro fila 4 morti e 39 feriti crani.